...bronzo olimpico, quindi veramente un patinatore straordinario, con i suoi pagliacci. Non entra completamente il quadruglotolo. Ci riprova? Triplo, il secondo. Triplo Axel, molto bene. Triplo Axel, molto bene. Triplo Axel, molto bene. Triplo Axel, molto bene. No, cadere il secondo, Triplo Axel. Quasi giù anche la mano sul ciclo lupo. Il pello luce, doppio talo, doppio luce, bene. Il pello flippo bene. Il pello flippo bene. Il pello flippo bene. Lui è sempre un patinatore bellissimo sul ghiaccio, però lo vediamo già dalla sua espressione. Qualcosa non è andato ovviamente.